Lo sport come strumento di inclusione sociale, questo è l'obiettivo del nuovo progetto nazionale della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, con il coinvolgimento di associazioni del terzo settore, università e realtà territoriali. Ad illustrarci questa iniziativa dal nome Sport per Tutti abbiamo con noi Veronica Dauria, presidente di WISP Bari. Buonasera e benvenuta innanzitutto. Allora, quali iniziative metterete in campo nell'ambito di questo progetto? Allora, questo progetto si inserisce nell'ambito di un progetto nazionale di ampio respiro, che prevede una serie di azioni. In particolare, sul Comitato di Bari, il progetto focalizzerà l'attenzione sulla sostenibilità, sul movimento sostenibile, che ben si attaglia con le iniziative del Comune di Bari. Infatti, in sede di conferenza stampa, l'assessore Pietro Petruzzelli ben ha detto che questo progetto rappresenta quasi una parte del programma del Comune di Bari. Ci faccia qualche esempio di attività? Esempio di attività è quello che cercheremo di implementare una applicazione che attraverso lo strumento della premialità, quindi attraverso il riconoscimento di un contributo economico, cercherà di incentivare il movimento sostenibile. Quindi tutti coloro che verranno a fare attività sportiva al Palasport Capocasale, che ormai la UISP gestisce da oltre dieci anni, e lo faranno in maniera sostenibile in bicicletta, ricordando che la UISP ha fatto da apripista, ricordiamo le grandi manifestazioni, quali Bici in città, di cui la Gazzetta del Mezzogiorno parlava tanto, addirittura facendo riferimento a 12 chilometri di felicità. Quindi noi cercheremo di implementare, ritorniamo all'attacco, implementando questa volta il movimento sostenibile. Quindi tutti coloro che verranno in bici, che verranno in monopattino in maniera sostenibile potranno beneficiare di questo contributo. Un flash l'importanza dello sport per ritornare alla normalità dopo la pandemia. Certo, la pandemia ha rivelato che l'esigenza di tutti i cittadini è quella di star bene. Star bene soprattutto in un ambiente pulito. E questo progetto va proprio in questa direzione. Noi ringraziamo Veronica Dauria per essere stata con noi.